amici di acme ben ritrovati siamo tornati a trovare l'amica marianna perché dovete sapere che la sua famiglia dal 1980 ha creato una bottega diventata oramai storica per valeggio e non solo ovvero il pastificio la re del tortellino ma da qualche anno la vostra grande famiglia ha deciso di ampliarsi ci troviamo all'interno del ristorantino al re del tortellino come è nata questa idea marianne appunto perché siamo una grande famiglia ci siamo sdoppiati e con alcuni componenti cioè mio fratello e mio marito e io gestiamo questo piccolo ristorantino al re del tortellino che a conduzione familiare abbiamo una quarantina di posti a sedere e diciamo che il tortellino classico alla carne e i primi sono quelli che la fanno da padrone ma anche la cucina veneta e la cucina tradizionale è il nostro cavallo di battaglia come potete vedere però qua alle mie spalle ci sono anche delle altre prelibatezze perché noi oltre che a servirvi il più buon cibo veneto e veronese ci serviamo dalle aziende agricole nei nostri dintorni e mettiamo via facciamo delle conserve piuttosto che la giardiniera e tante altre buone cose siamo nel cuore di valenzio siamo a due passi dal municipio per chi fosse interessato a venire ad assaggiare le vostre prelibatezze dove vi trova e come vi può contattare allora ci troviamo proprio nel centro storico vicino al municipio in via roma 1 sempre ovviamente a valeggio sul mincio ci potete contattare al telefono che è 045 795 2415 oppure anche via facebook o via mail vi ricordo il nostro sito www.aradialtortellino.it dove potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno grazie marianna e un cin salute a tutti grazie